oggi alle 15 vi aspetto sul gruppo facebook la pasta madre facile per una diretta sulle fasi del pane cioè parliamo insieme quindi ascolterò le vostre domande cercherò di rispondere il più possibile per parlare insieme su come si fa il pane in casa ragionando su tutte quante le fasi tutte le modalità frigo non frigo che farine e così via alle 15 su facebook sul gruppo la pasta madre facile vi aspetto ciao